Mi ha chiamato. Un giorno il tuo sguardo di sentire mi ha chiamato e ho sentito le vite scritte insieme a te. Alcune sono racchiuse nel medioevo, l'ultima è del tempo della rivoluzione francese. È stato un ricordo incontenibile, il profumo forte di un lungo amore. Tu come uomo e come donna, io come donna e come uomo, ci siamo rincorsi nei secoli sul filo delle vite. E adesso ti posso chiedere di mandarmi una foto con la bocca atteggiata ad un bacio purissimo? Forse la reminiscenza prosegue dopo il mio trapasso. Grazie a tutti.